Dopo il costante trend di decrescita, nella settimana dal 19 al 25 settembre sono tornate a salire le nuove infezioni da Covid in Sicilia, in linea con la tendenza nazionale. I nuovi positivi sono 6.467 più 6,8%, il maggior numero di contagi nelle province di Siracusa, Messina e Catania. Le fasce d'età più a rischio sono quelle fra i 6 e i 10 anni, tra i 60 e i 69 anni e tra i 70 e i 79 anni. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, la settimana presa in esame è quella che va dal 21 al 27 settembre. Nel target 5-11 anni, i vaccinati con almeno una dose sono il 25,8% e hanno completato il ciclo primario di vaccinazione 68.477 bambini, pari al 22,2%. Gli over 12 vaccinati con almeno una dose si attestano al 90,7%, mentre hanno completato il ciclo primario l'89,4% del target regionale. I vaccinati con terza dose rappresentano il 72,3% degli eventi diritto. Prosegue intanto la vaccinazione con quarta dose per tutte le persone da 60 anni in su e per gli over 12 elevata fragilità, purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla prima dose di ricamo o dall'ultima infezione successiva al ricamo. Dal 7 settembre è stata autorizzata la somministrazione della dose booster con i vaccini aggiornati alla variante Omicron agli over 60, alle persone ad elevata fragilità e alle fasce di età superiore a 12 anni in attesa della prima dose booster, includendo anche operatori sanitari, operatori ospiti delle strutture residenziali per anziani e donne in gravidanza. Dal 23 settembre, su richiesta dell'interessato, è consentita la somministrazione della quarta dose dei vaccini anche a tutti gli over 12 che abbiano ricevuto la prima dose di ricamo da almeno 120 giorni. Dal 1 marzo ad oggi sono state effettuate 110.557 somministrazioni di quarta dose, la stragrande maggioranza soggetti over 60.